L'indagine è iniziata nel novembre del 2017, quando il Tribunale di Termini Merese ha dichiarato il fallimento della nota attività Gruppo Sagone Euronics, operante nel settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e di apparecchiature audio e video, con punti vendita nei comuni di Alia, Cerda e Termini Merese. Così, dopo aver acquisito e analizzato la documentazione extracontabile, ascoltando gli attori della procedura fallimentare acquisendo le informazioni presenti nelle banche dati, la Guardia di Finanza ha potuto ricostruire le vicende aziendali che hanno infine portato alla denuncia del liquidatore. Quest'ultimo, per fuggire ai creditori, avrebbe cercato di nascondere beni aziendali, merci e denaro per oltre un milione di euro, attraverso un modus operandi che consisteva nel trasferirli nelle diverse sedi della propria attività, o cedendoli ad imprese familiari compiacenti. Da qui la denuncia del liquidatore della Sagone SRL, le cui iniziali sono SG, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le indagini, spiegano dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, hanno permesso di accertare l'omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, l'omesso deposito dei bilanci dal 2012 al 2016, nonché la distrazione dall'attivo fallimentare di merci, attrezzature e denaro in cassa.